Un riconoscimento indelebile per i nostri angeli che durante l'emergenza con la loro umanità ci hanno sostenuto, diventando un punto di riferimento ed indicandoci il cammino. Con queste parole il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui ha provveduto a consegnare ieri pomeriggio, nell'auditorium Benedetto XIII, le chiavi simboliche a forze dell'ordine, istituzioni ed associazioni di volontariato che si sono prodigate nell'aiutare la città sin dai primi momenti dopo le terribili scosse dell'ottobre 2016. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali dell'Arcivesco Monsignor Francesco Massara, del Prefetto Yolanda Lolli, dell'Assessore regionale Angelo Sciapichetti, dell'Erettore Unicam e Claudio Pettinari, della Megaglio Roberto Bianchi, in rappresentanza del Ministero della Difesa. Sono stati inoltre consegnati anche degli incomi ai dipendenti comunali per il grandissimo ed intenso lavoro sostenuto durante i difficili mesi del post-terremoto, impegno che continua ancora oggi, a distanza di due anni da quei tragici eventi sismici.